Cacchio, si deve pulire un poco questo pavimento Fa veramente cagare Vabbè, adesso inizierò a pulirlo Ma ti rendi conto dello schifo che c'è qua a te? Ciro, sei tu con una maschera? No, io non so, Ciro, io parlo Parla! Ma perché si è messo paura? Ma c'è una salsiccia normale Ma forse perché ho gli occhi bianchi Poliziotto! C'è... aia! Signore, cosa succede? Poliziotto, c'è una salsiccia posseduta demonica satanica dentro casa mia Ok, mando subito le persone a vedere Posso esser sincero? Non c'è un cazzo di niente Hai ragione Ciao! Oddio! Sparalo, sparalo! Ma lo sparo... Ok È morto Si muove Perché mi avete sparato? Oddio, è pericolosi... Ma non mi rompe di coglioni Ma perché vi mettete paura? Io sono una salsiccia buona Non ho mai ucciso nessuno Vai a fare... Va... Fa... Ecco Va a fare un bagno del cagno del cagno del... Ma non c'è un scopettino con la voce Oh ciao, Mela Che stai facendo? Cosa è quella cosa? Volete finire di uccidermi? Ma basta! Basta! Mi basta! Ma perché mi vogliono ammazzare? Signor costruttore, lei mi vuole ammazzare? No, io ti voglio calciare Ma la fattene affa... Wow, wow, Gigio, veramente? Gigio, non sto capendo un cazzo Comunque veramente? Vabbè Ah, ok, m'ho capito Ragazzi, per caso sapete Perché c'è una salsiccia demoniaca in casa mia? Mela, com'è fatta sta salsiccia? Nera! Occhi bianchi! Già che cravatta! Io che cacchio ne so Ciro vogliamo andare a controllare? Ok, andiamo a controllare Io non vedo un cacchio Tu vedi qualcosa? Oddio, l'ho vista, l'ho vista È là in fondo Ciao Oh, pure voi siete salsicce Scusa, Mela di cosa si mette paura? Di una salsiccia bruciata Con gli occhi bianchi Minchia, sembrano due lampadine Sapete per che caso? Io perché faccio paura Ma che ne so Forse perché la notte mi sembra di vedere l'uomo nero In che senso? Tipo questo Oh mio Dio Buongiorno mondo Oddio, ma cosa è quella cosa? Ciao, io sono una salsiccia L'uomo nero Ah, ok, ho capito quindi Qualche consiglio? Ciro è qualcosa da... C'è qualcosa? Ah, non hai niente? Ok, allora vediamo un ottimo se ho qualcosa nelle tasche Perché mi avete messo gli occhiali da sole? Per non far vedere gli occhi bianchi Mio Dio sembri aerobrain di Minecraft La maglia bianca, meno così la gente ti vede Dei bei pantaloncini eleganti e molto scomodi E infatti mi bruta il cu È un paracadute A che cacchio serve? Adesso te lo faccio vedere io Mi spiegate perché mi avete lanciato dal balcone? Perché? Per vedere se eri immortale Io non sono immortale Potevi mettere una clip di qualche minuto fa? Mi, basta! Basta! Eh, vabbè, quelli sono dettagli Comunque perché non ci presentiamo? Va bene, io sono Gennaro Lui è Ciro Chiamato pure Ciro l'immortale Chiamato pure quello che non parla da tre anni In che senso? Ah, ho capito Tu come ti chiami? Eh, che cacchione Sennò c'ho un nome, io Io vengo da una navicella Occhi bianchi Nero Vestito elegante Mi sembra un alieno Adesso mi dice che vieni da una navicella Vieni da Marte? No Vengo da Casavatore Ovvio che vengo da Marte Sono una salsiccia spaziale Ma proprio spaziale di quelle aliene Già ne abbiamo una di salsiccia spaziale Eh, facciamola venire casomai Qualcuno mi ha chiamato Oddio ma lui è salsiccia napoletana No Bene, fatti gli assomiglia Mettiamoli a confronto Minchia solo un gualli Solo che salsiccia napoletana è rossa Lui è nero E c'è un paracaduto Ha un nome? No, io lo dobbiamo dare E come lo chiamiamo? Eh, che cacchio ne so Vabbè Ciro non parla Che ne dite se lo trovo io il nome? Dario Ma che è Dario? Luigi Già ne abbiamo uno Ciro No, casomai Ciro no Non lo so come potremmo chiamarlo Manco io Ciao ragazzi Che state facendo? Ah! Cosa è quel coso? Cosa è quel coso? È una salsiccia spaziale Cioè, una salsiccia aliena Esatto Minchia Fatemela vedere Wow Ma invece di chiamarla salsiccia aliena Ma dategli un bel nome Tipo Giulio Minchia Giulio è bello Attenzione Che Roberto ha trovato un nome Giulio Perfetto Tu da oggi ti chiami Giulio? Sì! Cosa micchia è successo? Eh, mi sa Mi sa che mi hanno chiamato Perché è diventato tutto blu? Facciamo una cosa Ci sentiamo domani Perché io devo andare nello spazio Goodbye Dove è andato? Ha detto che doveva tornare nello spazio Minchia Ha detto che però torna domani Eh, vabbè Eh, casomai Andiamo io a dire a Mela Che è andata Visto che ho messo Ho visto Mela con una K in mano Ragazzi Dove è quella cosa che gli arriva un proiettile? Mela posa il revolver Eh, si chiama Giulio È una salsiccia aliena Ah, io pensavo che era una salsiccia bruciata Hai sentito Peppe Posalo il revolver Anzi Casomai me lo tengo in mano Perché c'è Roberto In che senso? No, niente Vabbè Eh Facciamoci una pizza E mandiamola sullo spazio Minchia Hai ragione Wow, non pensavo di farmi amici sopra pianeta Terra Sono scioccato Oddio, cos'è quella cosa? Oddio, 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 oddio Cos'è, cos'è? Cos'era? Cos'è? Ma poi che cos'è questa cosa che mi è arrivata? Eh Fammi leggere Allora si chiama pizza E allora Aceto Allora L'impasto Farina Uovo Ah no, sta scritto ricetta Eh Ah, si mangia Ok, proviamola Minchia Come si apre lo scatolo? Ah, sta scritto pure che la devo riscaldare Ma la riscaldo subito Cinque minuti ed è pronto Adesso Non è pronto Non è pronto